ciao a tutti bentornati qui sul mio canale di calcio perché oggi siamo qui signori per andare a vedere un po dei dati di paris saint germain e della juventus andiamo a vedere appunto dei dati delle due squadre in campionato perché li andrò a vedere su soccernet piattaforma completamente gratuita in realtà no completamente no se volete acquistarla se volete acquistare il pacchetto completo basta che potete vedere gli altri campionati a quel punto se volete che se volete vedere che ne so il campionato non lo so campionato portoghese potete tranquillamente acquistare l'abbonamento visto che gratuitamente non ve lo fanno vedere tutte le statistiche eccetera eccetera quindi potete o o non pagare un euro se volete vedere appunto quello che sto vedendo io oppure pagare dei soldi se volete vedere cosa extra insomma non cose però fondamentali ecco perché soccerment vuole rendere il calcio più merita meritocratico possibile e quindi ci sono poche cose da pagare mentre ringrazio soccerment per quanti dati offre vi ricorda di cui sotto in descrizione potete andare ad acquistare anche il loro palastinco intelligente xed che è un palastinco in cui praticamente potete vedere i vostri dati se giocate a calcio indossate quel palastinco lì attraverso immagino delle tutte delle specialità incredibili potete tranquillamente andare a guardare tutti i vostri dati su soccer costa un po mandatelo a comprare perché ne varrà la pena signori e passate ovviamente dal link in descrizione per appunto andare su soccerment allora paris saint germain allora qui potete vedere clean sheet ricopri palla dribbling gol tiri nella porta e passaggi per quanto riguarda il clean sheet il paris saint germain in media ha fatto 0,62 mentre in nella norma nella la ligand in media si fa 0,260 clean sheet a partita invece il paris saint germain ne fa quasi una partita poi oddio passaggi il ligand in media si fanno 183.88 passaggi il pari ne fa quasi il doppio diciamo no il doppio si quasi il doppio e ne fa ben 304.92 quindi prende non dico il doppio ma quasi poi shorts shorts on target che sarebbero i tiri allora il paris nella media 4,82 in ligand mentre il paris saint germain ne fa quasi 8 quindi veramente c'è 8 tiri nella porta la union fa quasi in due partite tre partite insomma quindi il paris saint germain ne fa 8 tiri in porta a partita ok che il campionato francese fa schifo ok che il paris saint germain è troppo più forte che il paris saint germain ne fa 8 tiri in porta a partita dalle altre squadre va bene tutto ma c'è il paris saint germain è una squadra troppo forte troppi giocatori forti poi gol ah vabbè che cavolo sto fa qui i gol nella media dovrebbero ne fa il ligand madonna ma che c'è nella ligand si fanno 1.63 gol ma perchè porca miseria appunto si fanno 1.63 gol mentre il paris saint germain ne fa quasi 3 2.77 ecco poi andando a vedere comunque i dribbling diciamo che nel nella ligand si fanno quasi 9 dribbling a partita credo mentre il paris ne fa ben 12 c'è tanta tanta roba già il vento su 12 dribbling veramente difficilmente li fa in partita poi recuperi palla allora aspettate i recuperi palla il paris saint germain sono di meno quindi come possiamo ben intuire da questi dati il paris è una squadra molto offensiva che prende anche qualche gol però in realtà no perchè fa un clichet a quasi un clichet a partita però comunque una squadra decisamente più offensiva che difensiva infatti anche in in champions league si vede in champions league mi pare che ha subito il paris saint germain 1 2 3 4 6 gol per ora in cinque partite quindi quasi un gol a partita mentre ne ha fatti 7 8 9 12 14 quindi ha fatto praticamente 14 gol con 7 subiti con no 5 subiti ecco quindi non no 6 subiti no sto facendo casino 2 dal maccabi 1 al benfica 1 al benfica 1 dalla juve 1 al maccabi 1 2 3 4 6 in 5 partite 6 gol subiti 14 gol fatti 14 sono tanti a punti recuperi il paris saint germain sta un po' diciamo dietro nel diciamo rispetto alla media che c'è il ligano perchè il paris recupera la palla 58.77 volte mentre il ligano in media 59.28 quindi stanno leggermente indietro il ligano mentre sta prima l'età media è di 27 anni quindi tra giovani e anziani ti diciamo per quanto mi riguarda allora vediamo un attimo qui un po' vabbè le statistiche potete tranquillamente vedere il paris saint germain nella gioca molto più in attacco cioè molto più gioca un po' più in attacco rispetto rispetto che in difesa infatti il paris saint germain in attacco gioca tipo 304.9 quasi 305 mette gioca di meno in difesa facendo 289.5 dunque veramente tanto di cappella questa squadra poi parliamo il pieg 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 top stats quindi shots quindi quelli che tirano di più in porta Kylian Mbappé 5.10 Messi 4.60 Neymar 3.04 non ci sarà grazie al cielo per il web paris saint germain Fabian 1.40 vitignia 1.39 poi recuperi palla Fabian Ruiz è quello che li recupera di più 8.18 Verratti 7.21 Daniel Pereira 7.39 no 7.37 Donnarumma 6.77 Marquinhos 6.39 chance create Neymar è quello che ne crea di più con 3.04 Messi 2.89 Sarabia 2.46 Bappé 2.32 Nuno Mendes 1.84 passaggi Verratti 103.9 Fabian 84.2 Sergio Ramos 80.1 vitignia 72.1 Neymar 70.7 poi dovrebbero essere i passaggi riusciti pass accuracy Silvio Ramos 95.5 Marquinhos 94.9 Verratti sono tutti lì 94.2 Pereira 94.2 Kempembe 94 Messi ne fa di più con 3.75 Bappé 2.32 Neymar 1.96 Verratti 1.62 Nuno Mendes 1.53 Quindi questi sono tutti i dati del Paris Saint Germain Adesso signori passiamo alla Juventus Juventus Ecco Qua signori Adesso vedete tutti i dati Allora no 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 mettiamo in inglese Allora settimi in Italia Ehm Poi All'età media addirittura Pochino più superiore al Paris Saint Germain 27.6 Poi Ehm No vabbè qui c'è la tasca Non ci interessa Non ci interessa No 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 Non è qui Pardon Stats La squadra riusciamo a vedere tutte Ehm Poi Per quanto riguarda Juventus invece Clicit In Italia si fanno circa 0 Ehm Ma cosa fai i puliti No Ehm Ehm In Italia Cioè in italiano col traduttore In In Italia si fanno 0.38 Clicit La Juventus ne fa Quasi come il Paris Saint Germain Nel campionato francese Ne fa un pelino meno 0.580 Quindi la Juventus Più o meno in campionato subisce Qualche gol in più del Paris Saint Germain Però Chiaramente poi andremo a vedere anche le altre statistiche Passaggi Ehm Allora La Juventus ne fa Ehm 100,7 No 171 Mentre in Italia in media si fanno 162 Quindi un pelino di più Di passaggi Tiri nello specchio della porta Ehm La Juventus ne fa Ehm 4.50 In media si fanno 4.24 Se non vado chiaramente Errato Poi Per quanto riguarda i gol Ehm In Italia si fanno 1.32 Goal a partita La Juventus ne fa 1.50 Rispetto Il Paris che ne fa quasi 3 La Juventus ne fa 1.50 Differenza totale Per quanto riguarda i dribbling Invece la Juventus è sotto La media Ma sapete tutti che Su Twitter se non mi seguite Seguitemi Io c'ho John Gamer Pubblico Qualcosina Che non trovate Che non trovate proprio su Instagram Su Youtube Eccetera eccetera Lo trovate solo su Twitter Però per Ehm Avere un po' di vantaggi Ecco seguirmi su Twitter Magari twitto anche poco Non sono uno che Stai 10 anni Dici ore su Twitter Anche se ho un social Che mi piace veramente Mi stacco Però quando twitto Twitto cose diverse ecco Dribling riusciti 5.58 In Italia 6.57 Molto meno Poi Recuperi palla In Italia si fanno Circa 57.02 La Juventus ne fa 55.33 Quindi Anche qui di meno Quindi siamo meno bravi Nel recupero palla Nel dribbling Rispetto alla Paris Saint Germain La Juve non sarà molto più difensiva Poco offensiva Eh Punta poco l'uomo Lo salta poche volte Mentre il Paris Saint Germain Magari Eh Lì davanti segna Decisamente di più In In difesa il Paris soffre Perché anche all'andata Tra Paris Saint Germain E Juve La Il Paris ha sofferto In difesa E possiamo anche fargli Un pochino male Però lì davanti Ragazzi Non c'è Poi Ehm Per quanto mi riguarda Ehm Il passaggio è proprio in metà campo La Juve ne fa 200 13.1 Mentre l'attacco Molto Molto Meno 171.0 Quindi La Juventus sta molto più in difesa Poi Migliori statistiche Ehm Chi ti ne importa Moise Ken 3.30 Vlovic 3.27 Milik 2.97 Miretti 2.28 Paredes 1.53 Recuperi Perino 8.69 Miretti 7.53 Alexandro 6.73 Bremer 6.09 Escesni Io No io lo voglio in inglese Perché mi fa troppo grande Cesta roba Escesni 6.02 Poi le occasioni create Quadrare quello che ne crea di più E' vero E' vero L'ho notato ma vanno sempre fuori 2.82 Infatti creiamo poco Kostic 2.50 Miretti 1.58 Paredes 1.27 Duzan Vlavic 1.6 Passaggi Bremer 64.5 Paredes 62.2 Federico Gatti 61.3 Sandro 53.4 Danilo 51.8 I passaggi usciti dovrebbero essere Paredes 94.3 Bremer 91.9 Rabiot 89.6 Alexandro 87.6 Bonucci 85.9 Idril Moise Kane è quello che ne fa di più Con 1.27 Rabiot 1.22 Alexandro 1.9 Quadrato 0.70 Fabio Miretti A 0.70 Questi sono tutte le statistiche La formazione titolare titolare 3 3 3 5 3 5 1 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 Poi Potrebbe anche mettere che ne so Rugani Ma ragazzi C'è la Juve Si può permettere di fare un cambio Valido In tutto il match 1 Che in realtà valido Mettere sulle magari Togliere uno tra la quadra dei Costi Per il match Staremo a vedere Vabbè quella del Paese San Germano Dovrebbe essere comunque un 3-4-3 Non me la ricordo a memoria Quindi non Non ve la lascio a schermo Ma Dovrebbe sì essere un 4-4-3 Di dove dovrebbero gire Sanabria Messi No Come si chiama? No Come si chiama? Sarabia Mbappé Messi I tre di avanti me li ricordo E nulla Questo video finisce qui Io spero vi sia piaciuto Inizio per il prossimo video Bene, amica